Now I'm on the outside Benvenuti ragazzi in questo nuovo video di Coccino 98 Oggi ragazzi siamo qui su FIFA 18 Finalmente siamo qui ragazzi, incredibile! Perché siamo qui? Essenzialmente per due motivi principali Il primo motivo è quello più bello del mondo Non è questo assolutamente, ma è questo Vabbè, non mi apre la squadra del torneo europea Che sono tipo i migliori giocatori della Champions League Una roba del genere Ancora non ho capito che cosa sono Ma non ci interessa sapere che cosa sono Bensì ci interessa trovare Cristiano Ronaldo Hazard, Neymar E che non posso vedere Vabbè ragazzi se posso vi metto tipo una foto Una schermata qui E vi rendete un attimo conto di che Cristi ci stanno Oltre questi ci sono anche gli if Quindi come se non mancasse Ma che cazzo? Vabbè, questi praticamente sono i Tot Vabbè, una roba del genere E raga, cioè non ce n'è uno pippa Se non qua sotto Non ce n'è uno pippa Quindi Perché ho 94.790 crediti? Perché essenzialmente sono riuscito a trovare La KZ ragazzi Che costa sui 97.000 e qualcosa L'ho venduto nonostante Ho una Premier League Soltanto per ovviamente spacchettare E qual è il metodo migliore per spacchettare? Se non quello di farci un video Sopra ovviamente Io spero vivamente sia registrando In tutto ciò ragazzi Siamo qui E siamo pronti a spacchettare questi 94.790 crediti No shopping Perché ragazzi non ho mai shoppato su questo gioco E penso che mai lo farò Il mio progetto è Aprire questo qui E il resto Dei pacchetti oro Allora io direi Di cominciare con calma Con calma E per favore Cominciamo con i pacchetti Da 7.500 crediti Via Raga E' uno storico di merda Lo so Però perdo molto spesso Allora Primo pacchetto Oddio 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 Ti prego Oddio Ti prego Oddio Che cazzo sei? Che cazzo sei? Va bene Va bene Blind Va benissimo Al primo pacco Mamma mia Eccezionale Al primo pacchetto Blind Che culo Che culo di merda Oddio 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 Non ce la voglio credere Quanto costi? Bah No Costa poco Ok Costa sui 15.000 Ok Siamo onesti Siamo onesti Potevamo fare di meglio Ma è comunque Un tot Swig Slimani Slimani mi sembrava un buon giocatore Se non sbaglio Vabbè ci teniamo tutto ragazzi Ci teniamo tutto Poi Vediamo come si svolge La situazione E va bene così ragazzi Va bene così Va bene Va bene Ok FIFA Ok Non mi hai mai dato un cazzo Però va bene Ok va bene Ci siamo Secondo pacchetto Ho visto la luce bianca blu Ragazzi Sono pazzito Ok non ci sta niente Siamo onesti Va bene Cioè Siamo onesti Ci può stare Perché Insomma mi ha appena dato Mi ha appena droppato Oh però mille crediti Che fai Li butti Non si butta niente Questi li buttiamo in lista Trasferimenti E ci sblocchiamo questi Mille crediti Il resto Non mi interessa averlo Bene Molto bene Apriamo il pacchetto Di Cristiano Ronaldo Ragazzi Sa Cristiano Ronaldo Porta Cristiano Ronaldo Si sa Non è nemmeno walkout Questo è una cosa Che mi fa Veramente Impazzire Va bene Ci sa Come dicevo Abbiamo trovato Comunque Un totwig Tocswig Tocswig Ma eccoci qui Con Chris Mann È lui E non ci sta un cazzo Nemmeno una rara Nemmeno una rara Signorino Ma per favore Ma per favore Pellegrini Va bene Va bene Va bene Va bene Dai ci sta Va bene Te l'ho detto ci sta Perché ci sta Perché comunque Va bene Dobbiamo accettarlo ragazzi È giunto il momento Non lo so Me lo sento Me lo sento 50.000 crediti ragazzi 50.000 crediti Ci mi vado a portare A comprare Tutto quello Che cazzo 50.000 crediti I giocatori più forti E desiderati Tutti in un unico pacchetto Contiene 12 giocatori Tutti oro E tutti rari Allora FIFA Iei Come cazzo ti chiami Io non voglio Grazie Mi hai dato Manco so Che cazzo mi hai dato Non me lo ricordo Me lo sono già dimenticato E ok Va bene Io dico Io dico I giocatori più forti E desiderati Se tu qui mi fai uscire Una cacca Cioè come walk out Mi dai Una merda Me posso farlo del culo Cioè FIFA te lo assicuro Mi posso farlo del culo Perché quelli Sono tutti i soldi Guadagnati da me Medesimo Ok In Siamo a dicembre Quindi Settembre Ottobre Novembre Quattro mesi di gioco Che non ho trovato Un cazzo Non è vero Ho trovato belle cose Però Mai di così succoso Da poter dire Ok Quest'anno FIFA Ne ha valsa la pena FIFA Qui lo dico Qui lo nego Se non trovo Un cazzo In questo pacchetto Nemmeno magari Un walk out FIFA Io bestemmio Mamma mia Sei bestemmio Ero indeciso Di comprare Questo O questo Ma di 30 Di 35 Non mi fido Raga Non mi fido Voglio optare per questo Allora ragazzi Siamo pronti Siamo pronti Siamo pronti Ad aprire questo pacchetto 3 2 1 Ah è vero Devo fare Ok Siamo pronti Ad aprire questo pacchetto Ragazzi Siamo pronti FIFA FIFA non fa la stupità Stasera Raga Mi piange il cuore Cioè credete 50.000 credit Buttati In sto cazzo Di pacchetto Mamma mia Mi potevo Nella gazzetta Non facevo sto video Non facevamo un cazzo Siamo pronti Basta Ho deciso Siamo pronti Ragazzi Via Si parte Almeno un walk out Almeno un walk out Fatto bene Ci sta mettendo 20 minuti Eccolo qui Almeno un walk out Fatto bene E un walk out Almeno questo Almeno questo Almeno questo Magari è messi Francia Dici Dio Cristo Cos'è il nì 84 84 Ma che cos'è 84 84 Ma dai Ma 84 Ma cos'è il nì 84 Cioè Questo è uno dei giocatori più desiderati Ma Ma Mi ammangino l'altri Quali sono Sommer Belotti Feija Junkstein Bates Miraias Ma chi sono Cos'è il nì Quanto costi Quanto potrei costare così il nì Un cazzo costi Sommer Quanto potrà costare Sommer Un cazzo Mille Manco Belotti Belotti è forte Ma non costa un cazzo manco lui Ma guardate Poi Vi do Ah ragazzi Ragazzi Non c'è andata bene Procediamo con 7500 Si vede che questi pacchetti Sono più fortunati per me Walk out No walk out Bandierine Vai Spagna TD Juan Fran Juan Fran Buono Buono ma non vale un cazzo Mi sa eh Mi sa che non vale un cazzo C'ho giusto sovresentimento Che non vale assolutamente Un cazzo di niente E infatti Non vale niente Vale sui 1800 Va bene Noi ci teniamo tutto Che poi andiamo Uh Real Madrid Terza divisa Bella Questa si vende raga Questa si vende 100 credit Te li faccio Raga Ultimo pacchetto E poi ci andiamo a fare Le migliorazioni I giocatori Che mi cazzo si chiamano Non mi ricordo Non mi ha la parola Dai su Dammi il ball Out Mortacci Tutto Che il tuo dice Ma no Satason Vardy 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 Onesto Mazza È sceso di prezzo Però Li mortacci Sua Manco 4000 Costa Mortacci Di guardio Però questo io me lo posso tenere Si me lo posso tenere Me lo posso tenere Raga Eh me lo posso tenere La squadra mia Cazzo me frega Mi metto Vardy là davanti Ragazzi siamo rimasti Con 1600 crediti Nel frattempo Io mi vado a fare Delle sfide Creazione rosa Ok Mi vado a fare Delle sfide Creazione rosa Aggiornamenti oro Mi vado a fare Direttamente Quelli Sinceramente E ci rivediamo Tra qualche Secondo minuto Ok ragazzi La prima La prima è andata Pacchetto Due rari Giocatori Oro Super mega Fantastici A questo punto Io direi di cominciare Ad aprirlo Tanto questi ragazzi Si sa L'hanno nerfati Io prima ci trovavo Bella roba Ora non ci trovo Assolutamente più Un cazzo Ma metti caso che Gli scappa Un walkout Nemmeno quello Fantastico Meraviglioso Eccezionale Vediamo chi c'è Nulla di particolare Gente che potrò Rimettere poi Nei miglioramenti Quindi raga Mi vado a fare Un altro aggiornamento Oro In questo caso Argento Perché Ce l'ho E mi prendo Mi sembra Tre giocatori oro Una cosa del genere Ok ragazzi Altro pacchetto Altra corsa Ci vogliamo Riprovare Ci vogliamo Riprovare Ragazzi Proviamo a vedere Cosa c'è In questo pacchetto Due giocatori Oro rari Speriamo almeno Un walkout Nemmeno Un walkout Soltanto Due oro rari Che sia Jesus No Mignolè E Conti Va bene Ok ragazzi Questo era Veramente l'ultimo Perché poi Non ho più giocatori Andiamoci ad aprire Questo pacchetto Da due Oro rari Probabilmente Non ci troveremo Un cazzo Come l'altri due Però Ragazzi ci speriamo Dai fifa Lo so che non è finito qui Non è finita qui Nemmeno il walkout Ma è imbarazzante Ma No 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 Ok ragazzi Purtroppo Non sono riuscito A fare un altro Aggiornamento oro Però ragazzi Il bottino di oggi Non è male Abbiamo trovato Giocatori Che comunque Sono di un certo Spessore Abbiamo trovato Poi Un totwig Mi sembra Abbiamo trovato Blind Non vorrei O show Non mi ricordo Sì abbiamo trovato Blind Che comunque Schifo Non fa Potrei venderlo Perché comunque Alla fine Io ho Danny Rose In TS Che non è male Alla fine Ragazzi Non è male Per niente Quindi alla fine Ragazzi Siamo riusciti A trovare Una carta bianca In tutto ciò Ragazzi Il video Finisce qua Se vi è piaciuto Questo tipo di video E i video su FIFA In generale Posso eventualmente Portarli E se vi è piaciuto Sono contento Perché li porterò uguale Visto che a FIFA Ci sto comunque Giocando Molto Io sono contento No Perché comunque Alla fine Non mi sono per niente Ripagato I crediti Che ho speso Però comunque Una piccola soddisfazione FIFA me l'ha levata Ok che avevo trovato Altri if Prima Però comunque Un totwig Non l'avevo mai trovato E quindi Alla fine Sono più che contento A questo punto ragazzi Io vi saluto E vi do appuntamento Al prossimo video Ricordatevi Che in descrizione Ci sono link Molto 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 Importanti Come ad esempio Instagram Come ad esempio Telegram Come ad esempio Il sito per comprare Giochi E abbonamenti A prezzo Scontatissimo Come ad esempio Il Professor Rock Dove comprare Codici per Pokémon 3D Car Game Online A prezzo scontato Con il mio link C'è anche Il codice sconto Io ragazzi Vi saluto Lasciate un like Commentate Ed iscrivetevi Al canale Se ancora Non l'avete fatto Qui da Cocino 98 È tutto Io vi mando Un abbraccio Bella raga Un abbraccio 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 Grazie a tutti.